Per quanto riguarda IONU, sicuramente stiamo facendo delle votazioni ancora non ha recuperato e non ha fatto nessun allenamento con la squadra. A breve vi saprò dire qualcosina in più sulle sue condizioni e quello che sarà un po' il suo futuro, le scelte che andremo a fare. Invece a Rui molto probabilmente da martedì si aggregherà con la squadra, non questa settimana. Abbiamo avuto qualche problemino con Gelli in questi giorni, stiamo valutando entro domani se convocarlo o meno. Mentre Mazzitelli è recuperato, ha fatto però il primo allenamento oggi con la squadra. Si è allenato oggi pomeriggio con noi per la prima volta e quello sarà sicuramente a disposizione. Per quanto riguarda Marchizza, perché avevo anche letto che era stato integrato con la squadra, ha fatto un allenamentino con la squadra, ma anche lui dovrà fare un inserimento graduale rispetto agli altri. Abbiamo sicuramente convocati sia Luswardi che Bonifazi, che sono a disposizione per quello in zona centrale difensiva. Andiamo a recuperare dei giocatori. Per il resto, insomma, sono bene o male i giocatori che ho, sono rientrati un po' tutti a disposizione. No, 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 non sarà nemmeno convocato Marchizza in questa gara. Per quello stiamo facendo un discorso di recupero generale, di adattamento a un lavoro. Ricordiamoci che recuperare da un infortunio come ha avuto lui e mettersi dentro la squadra con una squadra che ha un certo ritmo ci vuole una gradualità che gli permetta poi di arrivare un pochino nella condizione ottimale, ma anche per superare il fatto che lui da zero a stare con la squadra ci vuole un tempo di adattamento. A volte ci vuole un po' di più, a volte un po' di meno. Dipende anche dalla struttura fisica del calciatore e dall'aspetto mentale nell'approcciare dell'area. Una partita importantissima contro una squadra, hai detto benissimo te, che sta guardando la classifica in maniera tra virgolette, chiamiamola tranquilla, con l'ambizione di migliorarla, come giusto che sia, con dei giocatori, ricordiamoci, la rosa del Genoa, parliamo di salvezza per il Genoa, ma io vedo una squadra che ha dei giocatori importanti, non dimentichiamo Malinoski, Daretegi che è il centravanti della nostra nazionale, Gudmundson che è un po' sulla bocca di tutti, ha preso un giocatore che è stato campione d'Italia come Messias, per quello ha dei giocatori di grande esperienza come Kevin Strott, ma anche io ho avuto la fortuna di allenare, Padeli, è un allenatore che sta facendo un ottimo percorso, il partito della primavera ha vinto il campionato l'anno scorso, è una squadra che ha, secondo me, grandi potenzialità, ha diversi nazionali, per quello il fatto di avere tanti nazionali significa che all'interno ci sono degli ottimi calciatori. Sì, è giusto parlare di prestazioni ma anche di risultati che si legano tanto, è ovvio che nella prestazione giustamente dobbiamo mettere il fatto di portare a casa in questo momento la priorità e fare il risultato, bando insomma le chiacchiere, serve maggiore concretezza a questa squadra, quello che magari non ha mostrato specialmente nell'ultimo periodo e in questo dobbiamo essere velocissimi nel ritrovarla. Le tue considerazioni sono validissime, c'è solo, se vogliamo dire, il rammarico di aver fatto veramente tanti punti inizialmente o perlomeno ci siamo trovati una classifica tale che ci potrà permettere di ragionare in maniera diversa ma le partite, i risultati, le prestazioni, i nostri errori, le nostre incertezze ci hanno portato a questa classifica. Però abbiamo una grande fortuna, il calcio è bello per questo, che ti permette di poter rimediare agli errori, al fatto di poter avere una classifica differente e andare a fare quei punti che ci permettono per poter poi mantenere questa categoria. È ovvio che le partite si accorciano sempre di più e a partire dalla prossima, quello che sto chiedendo alla mia squadra, abbiamo lavorato tanto in questa direzione di maggiore compattezza, anche se secondo me c'è stata, ma compattezza legata anche di tenersi stretto un risultato, legarsi un pochino di più al risultato ed essere maggiormente concreti. Questo è quello su cui abbiamo lavorato, è una fase difensiva fatta sempre meglio limitare le disattenzioni che non mi piace parlare in discorso individuale ma di squadra, dobbiamo limitare tantissimo questo. Ma al di là di quello che sarà la formazione, i principi rimarranno un po' di stessi e dobbiamo aggiungere quello che sto dicendo, che ho detto prima, che credo sia la cosa più importante, perché se ragioniamo sul fatto che un terzino va a fare il cross e l'altro fa gol, è bello da vedere come pensiero. Peccato che poi abbiamo rischiato pochissimo quando eramo alti e paradossalmente abbiamo preso quando eravamo un pochino schierati, eravamo abbassi e abbiamo lavorato tantissimo in questa direzione. Per quello potrebbero giocare anche tutti e tre insieme, non lo so, dipenderà un po' da quello che vogliamo, da quello che deve essere la nostra partita e l'avere maggiore compattezza possibile in questa gara. Con una squadra, come dicevo prima, che quando attacca ha dei giocatori veramente pericolosi, ma a cui possiamo anche far male perché abbiamo dimostrato di poter far gol a tante squadre. Il nostro, se vogliamo dire, tra virgolette il difetto più grande è quello di averne subiti troppo. Lo ribadiamo nuovamente, ma è la verità, è un dato di fatto e noi dobbiamo migliorare per forza di cose per poter ambire alla salvezza, alla fase difensiva fatta di squadra in maniera nettamente migliore. Citandola, ha detto, mi metterei anche a sei se fossi sicuro di ottenere una vittoria. Le chiedo, è possibile quindi che ci sia qualche cambiamento dal punto di vista tattico sabato a Genova? E poi come sta Sule, dato che è tornato solamente oggi ad allenarsi con la squadra? Sule è tornato con il sorriso, con l'entusiasmo di aver fatto un gran gol e credo che sia un'iniezione di energia positiva all'interno della squadra. Oggi l'ho potuto obiettivamente valutare poco perché oggi era una giornata dove noi abbiamo lavorato più sui calci piazzati o altre situazioni tattiche, un pochino meno dinamiche, più didattiche, perché era una giornata che si chiama di recupero. Rispetto al lavoro che abbiamo fatto in questa settimana lo valuterò bene domani e chiederò anche al ragazzo come sta, un pochino meglio. Ma se tu chiedi ai ragazzi come stanno, ti dicono sempre che stanno alla grande, vorrebbero sempre tutti giocare. Giustamente, l'ho fatto anche io il calciatore e so che le risposte sono quelle lì. Sta a me poi valutare veramente alla reale condizione di Mattias durante questi giorni, prima della gara. Per quanto riguarda il sistema di gioco e i cambiamenti, sì, ci potrebbero essere delle novità, non sto qui a dirle, ma quello che mi interessa più di tutto è quello che dicevo prima. A via degli interpreti noi dobbiamo essere ancora più squadra quando difendiamo e non avere quei cali di tensione, perché io poi riguardo le partite e vedo una squadra che subisce veramente il primo tiro e prende il primo gol con la Lazio. Ovviamente cos'è? Sono dei cali di tensione di squadra, di reparto, d'assieme, che dobbiamo evitare. Abbiamo lavorato tantissimo in questa direzione e mi auguro che tutto quello che ho cercato di mettere specialmente nella testa dei ragazzi, alzare questo livello di attenzione e poi lo riportiamo realmente in partita, perché è quello che conta poi alla fine. Le chiacchiere poi si riportano nel vento, tutto quello che ci raccontiamo qui conta relativamente, ma noi dobbiamo ambire a fare una gran partita e un gran risultato. L'hanno dette tutte. Sì, vabbè, io penso che in questo momento se ne possano dire tante e raccontarcene tutte. Conta veramente la squadra che adesso riesce ad avere una maggior solidità, freddezza, anche serenità di andare a affrontare queste gare, perché bisogna essere bravi a dare il giusto equilibrio ad affrontare le gare. Io ho una squadra molto giovane. Ho letto ultimamente che siamo forse in Europa la quarta, quinta squadra che mette più giovani. Non ce n'è un'italiana, mi sembra vicino alle prime trenta o che sia, non lo so. E questo un pochino tu lo puoi pagare. Per quello però dare anche troppo peso a questi ragazzi non è nemmeno giusto. Per quello bisogna trovare quell'equilibrio giusto per affrontare al meglio le gare. E alla lunga chi avrà l'equilibrio giusto sia in campo che fuori per me può raggiungere la salvezza. Per quello invito tutti quanti, sia i nostri sostenitori, tutti quanti noi ad avere veramente grandi equilibri in questo momento che è importante. E non lasciarci troppo andare ai momenti, ma vivere anche le partite nel modo giusto per poi arrivare alla fine di questo campionato e veramente poi fare come dicevate prima un bel aperitivo cenato di quelli giusti. Ma non ne voglio io parlare, se ne vuole parlare ne parla giustamente una scelta prima di tutto societaria, che poi si lega a tante altre situazioni, per quello questa è una domanda che dovreste rivolgere alla società.